buongiorno a tutti e ben ritrovati sugli schermi di casa del sole tv a parlare oggi di prospettive e della situazione attuale in cui ci troviamo e lo facciamo con lo scrittore e filosofo editore del canale youtube scuola stoica michele putrino buongiorno michele buongiorno a te jeff buongiorno a tutti michele partirei da questo l'occidente lo abbiamo detto tante volte è in preda a un nichilismo distruttivo che acceca le persone e non si capisce da che parte si va a finire e tra l'altro in questo periodo in questi giorni abbiamo gli atenei in sommossa nel senso che stanno protestando ma c'è chi ritiene che siamo alla chiusura di un ciclo storico come minimo perché l'occidente è effettivamente se non ormai in morituro di sicuro è in declino e ma perché non dobbiamo avere paura come facciamo a non avere paura michele e che prospettive possiamo avere secondo te allora è la prima regola sempre nella vita ed è quello che sostengo ormai da anni con attraverso il mio canale scuola stoica e attraverso la visione stoica che cerco di portare avanti e che non bisogna mai avere paura perché siamo nati per combattere cioè il concetto stesso della vita e combattere quindi come diceva seneca siamo stati messi al mondo per svolgere una missione per compiere uno scopo tutti noi quindi per definizione dobbiamo lottare dobbiamo combattere quindi per definizione la vita è attrito quindi avere paura significa negare questa natura non solo umana ma proprio dell'universo perché tutti gli esseri viventi svolgono ognuno una missione ogni essere svolge una missione quindi ogni essere lotta e combattere quindi prima regola è comprendere questo ed è una cosa che è un concetto che è sparito dalla dalla nostra visione del mondo da molto tempo e quindi va assolutamente ripristinato quindi combattere lottare in ogni situazione qualsiasi cosa accada non a caso la figura del guerriero da sempre accompagna l'immagine dell'uomo no dalla notte dei tempi ora nella situazione attuale questa questa visione di di uomini combattenti di esseri che combattono vale ancora di più perché perché è vero ci troviamo alla fine di un ciclo è palese lo abbiamo detto tante volte anche con te siamo alla fine di un'era la fine di questa era è rappresentata in un certo senso dalla fine della della fine dell'impero romano perdono nella fine del impero romano che poi è stato trasfuso nel negli anglosassoni diciamo della fine dell'impero americano e gli stati uniti sono in forte declino evidente a tutti ne sono perfettamente coscienti anche loro iniziano proprio ad ammetterlo anzi lo ammettono per primi loro studiosi e anche le persone comuni in america e quindi questa situazione tende tende naturalmente alla distruzione porta alla distruzione di tutta la visione del mondo che abbiamo conosciuto fino ad oggi perché dico questo perché a differenza ad esempio dell'impero romano in questo caso sì dove poi c'era ancora altro terreno in cui si sono la storia è andata avanti diciamo no a porta è andata verso sempre verso quella direzione portata avanti da altri popoli in questo caso invece avendo raggiunto un livello globale l'impero americano collassando l'impero americano il collasso dell'impero americano equivale a un collasso della civiltà umana perché ricordiamo piccolo piccolo parentesi che almeno allo stato attuale né i cinesi né tantomeno i russi possono andare a sostituire gli americani per quello che hanno fatto gli americani a livello globale che sia un bene sia un male lo lascio dire alle persone non entriamo nel merito per tanti motivi che non andremo a indagare adesso per questioni di spazi però anche se anche se i brics hanno superato il g7 come percentuale economica però non sono ancora certo in grado di sostituire questo questo sistema ma vedi jeff quella è un'alleanza tattica cioè è un'alleanza io una cosa pure che non sento spesso dire non so se le persone non se ne rendono conto non capisco il perché ma i brics è composto da un gruppo di nazioni che sostanzialmente si odiano tra di loro da sempre odio secolare che però sono insieme perché c'è un nemico comune però immaginate nel momento in cui questo nemico comune dovesse svanire è ovvio è ovvio che inizierebbero poi a ad attaccarsi tra di loro faccio un esempio classico che tutti dimenticano india e cina si odiano a morte ci sono guerre di confine sul confine ma anche cinesi e russi e c'è tanto che i cinesi considerano la la siberia roba loro in sostanza e dicono che i russi hanno sono occidentali che hanno invaso conquistato territorio asiatico e potremmo continuare c'è un'enorme tensione fra india e cina compreso una corsa di armo nucleare che comprende anche il pakistan esatto quindi teniamo in considerazione queste cose perché non è quindi per questo dico che non non c'è al momento una situazione in grado di sostituire una nazione un gruppo di nazioni in grado di sostituire la gli stati uniti come impero globale ecco mettiamola così ne consegue che il collasso degli stati uniti non potranno che non potrà che portare caos nel mondo questo è un dato di fatto quindi alla luce di tutto ciò quali prospettive ci sono di fronte a noi ebbene dal mio punto di vista ascoltando i vari analisti ne ho parlato anche sul mio canale sono fondamentalmente tre al momento queste tre opzioni tre prospettive sono o effettivamente avverrà il collasso collasso economico sociale finanziario ed è una grossa possibilità che c'è una grossa posizione diciamo che un po è in corso nel senso che c'è una catastrofe economica che difficilmente adesso può essere può essere invertita non soltanto economica jeff morale di identità culturale perché ricordiamo sempre che una nazione non è solo economia anzi l'economia è solo una piccola parte in realtà c'è tutt'altro e se andiamo ad analizzare a guardare la situazione americana gli americani sono completamente in crisi da tutti i punti di vista non c'è un fattore positivo in questo momento e ripeto cosa questa cosa è affermata da loro è in primis e sì infatti quindi cosa ci attende prima prospettiva collasso economico situazione qualcosa di simile se non peggiore la situazione post unione sovietica se qualcuno ricorda la situazione della russia e dei paesi dell'est europa negli anni 90 beh c'è di che aver paura non anzi forse la situazione molto probabilmente sarebbe ancora peggiore perché non ci sarebbe poi una seconda parte che per sfruttare per propri interessi interverrebbe in qualche modo per aggiustare qualcosa la seconda opzione è l'altra quella che vediamo sotto gli occhi di tutti quella bellica quella bellica allora c'è una guerra in corso perché perché l'impero sta crollando e quindi l'impero tenta di reagire gioca l'ultima sua carta e l'ultima carta è sempre quella militare ci sanno la guerra si dice a costo di muoia sanzone mi gioco l'ultima carta che ho terza opzione è quella che se per qualche motivo non avviene il collasso che per qualche motivo magari riescono a sistemare questa cosa o riescono a non far scoppiare la guerra per qualche altro strano motivo però bisogna considerare sempre tutte le opzioni beh la terza opzione è quella della società alveare come fai a gestire miliardi di persone siete tutti insetti esatto come nella hanno pure scritto alla stazione lascia stare che era il titolo di una serie forse però la sensazione che le persone hanno avuto leggendola è quella esatto esatto e quella lì perché se tu ci pensi la terza opzione come fai a gestire queste miliardi di persone che è inutile negarlo siamo veramente in tanti adesso sulla terra è veramente in tanti ricordo io quando andavo al liceo avevano annunciato i 5 miliardi di persone siamo arrivati a 8 miliardi cioè nell'arco qualche decennio è qualcosa di incredibile di assurdo e se anche uno dice vabbè io non credo a quei numeri ma basta affacciarsi basta andare in una grande città si vede in italia non parliamo delle altre nazioni dove è l'italia diciamo c'è un declino democrafico non parliamo degli altri posti dove c'è veramente una super super una un enorme andiamo in india o in cina o ovunque altro anche in africa e ce ne accoggiamo e se anche qualcuno dice vabbè però la terra può reggere più ma voi conoscete qualche altro tipo di essere vivente sulla terra che così presente ovunque con questa quantità no se non consideriamo appunto gli insetti quindi è un dato di fatto questa cosa la dobbiamo considerare jeff inutile girarci intorno va considerato anche il fatto che otto miliardi di persone sono difficili da da gestire nel senso che poi c'è chi pensa non tutti ma qualcuno pensa e magari non ci sta e quindi vedi quello che uno vede è l'inevitabile è inevitabile che si arrivi a questa società alveare una specie di grande reset che però globale e anche qui non stiamo parlando in teoria qualcosa che annunciano loro ecco la teoria del grande reset anche nel famoso libro di shoshana il capitalismo della sorveglianza si parlava proprio di questo ma è evidente anche tutta la tecnologia tutto questo controllo a cosa serva controllare le masse gestirle e il sistema che si che tenta di sopravvivere si e quindi questa è la situazione attuale e questa questi qui stiamo parlando di dati di fatto jeff quindi nel migliore dei casi michele diciamo che nel migliore dei casi c'è una catastrofe economica culturale morale è la distruzione cioè nel caso migliore o è quello della distruzione economica mettendo da parte la guerra terza guerra mondiale è una devastazione o distruzione umana totale cioè il ridurre l'uomo ad un insetto che è quello che già sta avvenendo eh attenzione perché siamo già in questo processo già già pesante e quindi dobbiamo domandarci in maniera seria non sparando teorie politiche o altra roba soluzioni strane dobbiamo domandarci ma quale esiste un'altra opzione questa cosa possiamo fare concretamente ecco possiamo andare al potere al governo e cambiare le cose no no perché perché l'unica soluzione sarebbe sempre quella poi di fare una società alveare perché o diventi una specie di tiranno mostro e cominci ad eliminare persone eccetera oppure crei sempre una società alveare per forza non è che hai altre opzioni oppure oppure e qui c'è diciamo la quarta opzione che propongo io insomma che di cui parlano in tanti però io cerco di vederla sotto un altro aspetto che quella che di ritornare di nuovo ai lavori più semplici di tornare nei piccoli comuni piccole città ma non significa isolarsi attenzione come hanno fatto alcuni andare a vivere sulla montagna no no ricreare le comunità le comunità classiche quelle in cui sono cresciuti poi i nostri ripartire dal piccolo anche perché se forse il piccolo dall'esempio poi magari si ingrandisce altrimenti ma non guarda guarda che non è niente di così traumatico di strano perché in realtà soprattutto in italia abbiamo questa fortuna dove ancora tanti comuni piccoli comuni sono vivi tantissima anzi il grosso in realtà della popolazione in italia a differenza di altre nazioni vivono le persone vivono in piccoli comuni piccole realtà lavorano il terreno ma non solo il terreno lavorano di di allevamento di di artigianato no artigianato e anche di arte sì sì di arte artigianato cioè stiamo parlando di qualcosa non di fantasiosa è qualcosa che già esiste che sta certamente è in fase certamente di declino anche lì ma non è qualcosa che è sparito che non stiamo parlando di utopie no ecco a mio parere quello a cui bisogna ripuntare il problema qual è jeff è che chi propone di solito questa cosa tende a dare una visione idilliaca di queste realtà pensando che tutto rosa e fiori l'amore i cuoricini e così via non è così perché chi ha conosciuto queste realtà sa che in realtà sono dure c'è sofferenza c'è fatica c'è dolore non è non è rose e fiori la cosa non è il caso di avvicinarsi con un approccio da 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 i piani settantie da peace and love ma semmai forse un po da guerrieri esatto esatto infatti questa visione che è presente sia in russia sai nel punto non nell'entroterra pure russo ma anche nell'entroterra americano non texas anche nelle parti più interne degli stati uniti dove infatti sono più tradizionali voi non vedete gli ipili gente dura e da qui per me è fondamentale anche la visione stoica dell'esistenza anzi soprattutto ecco perché bisogna partire da una visione stoica della vita che quello che abbiamo detto all'inizio di questo di questo video non basta andare a dire e dire sai che bello stare in mezzo ai piori non è così devi essere duro devi essere forte devi essere uomo con la maiuscola però essere anche un approccio non necessariamente pessimista per costruire molte cose buone però ci vuole forza e determinazione ecco non è non è guarda che è stato l'esatto contrario del pessimismo perché in questa visione una volta fatta una volta che la fai tua ci vuole tempo ci vuole forza ci vuole come nello sport non all'inizio sembra un incubo quando inizi a praticare un determinato sport poi invece è proprio quella fatica quella anche sofferenza quei sacrifici che ti fanno godere della vita è questa la differenza il problema qual è che soprattutto in italia questa visione è morta da tempo cioè sempre stata vista poi come un nessuno ha mai costruito una filosofia di queste di questa visione del mondo non intendo filosofia libresca ovviamente intendo filosofia di vita no l'apprezzare l'amare questo questo tipo di visione mentre invece è così e secondo me va ricostruito questo quello che io tento di fare con il mio canale scuola stoica con quello che cerco di portare avanti è esattamente questo è riportare in vita questa visione dell'esistenza jeff che è l'unica alternativa rispetto alle tre prospettive che abbiamo detto prima di questi scenari e questa difficoltà questa difficoltà ad affrontare le cose e invece a farsi prendere dalla paura è legata secondo te alla cultura cui ci hanno abituati perché è innegabile che l'occidente sia leggermente autocentrico ed è vero che poi ci sono problemi in tutti i paesi e poi ci sono anche alleanze fra paesi che forse non sono così vicini tra di loro però è anche vero che in altri paesi ci sono altre altre realtà anche individuali cioè le persone hanno un approccio culturale e dei valori morali diversi forse un po più sani noi li abbiamo persi e quindi abbiamo difficoltà anche ad affrontare la vita con durezza siamo abituati all'agio ma sì ma soprattutto in italia soprattutto in italia perché in italia c'è da decenni per non dire da secoli la cultura del pienisteo la famosa cultura del posto fisso da dove esce fuori dal voler stare bene tranquilli coccolati no pensi ai film di che cozzalone per dire ma non c'è bisogno basta guardare qualsiasi film all'italiana questa tragedia se uno tra i fidanzati questo eccesso di romanticismo tragico tutta sta roba qui è tipica italiana no che è una società appunto che non è che educa a diventare forti ed educa a diventare deboli questo è dovuto sia a una nostra secolare cultura dovuta a vari motivi di abbiamo parlato altre volte e anche dal fatto che siamo colonia una colonia è abituata educa come dire spinge gli appartenenti a quella colonia solo a essere buoni tranquilli a essere pecore non c'è devi essere buono tranquillo e basta ma questa cosa deve cambiare deve cambiare perché tanto è il mondo che sta cambiando jeff non è che c'è alternativa non è che c'è uno che può dire ah vabbè sono scelte personali qui non si tratta più di scelta personale e questo è il discorso qui si tratta di tu vuoi vivere veramente o vuoi diventare un insetto se va bene o carna della cannone se va male o a vivere nel caos e se dovesse callassare la situazione ecco non è che non stiamo parlando di cose di alternative di vita nel senso come scelta così no dice vado a vivere sul mare vado a vivere in montagna qui si tratta proprio di fare di cambiare la propria prospettiva il proprio futuro ciò che ti ha ciò che attende te come persona e i tuoi figli e tutte le altre persone in vista di quello che sta accadendo che io te lo chiedo anche se la risposta credo che tu la stia già dando in quello in quello che hai esposto finora e bisogna rielaborare anche un modello politico diverso cioè adesso seguire cercare di risolvere le cose con la stessa chiave sia mentale che politica non serve o si può fare anche quello perché alcuni parlano di di soluzioni per esempio uscire dalla nato qualcuno promette anche di poterlo fare ma io qui delle volte io non capiscono quando ascolto queste persone non so se ma voi ecco facciamo l'esempio dell'impero romano antico voi riuscite a immaginare non so il villaggio stile asterix no che dice vabbè da domani usciamo dall'impero romano è una cosa cioè è ovvio che non è possibile perché non siamo nell'impero per nostra volontà siamo stati conquistati in mano militare come dicevo punto fine puoi cercare di ribellarti ok e le conseguenze storicamente le abbiamo viste è giusto tentare come dire cerca per carità però non è non è una cosa fattibile non si può fare semplicemente punto è utopia è utopia mentre in realtà secondo me è una cosa sensata e cercare di costruire una realtà in grado di reggere al collasso dell'impero o bene che vada al ritiro dell'impero ecco quello sì e noi così dobbiamo ragionare quello è il realismo già non fare la guerra all'impero ma quindi di organizzare organizzare o riorganizzare reti territoriali reti che che permettano la sopravvivenza locale più o meno grande a tutti i livelli energetici alimentari e prepararsi soprattutto mentalmente già perché io una cosa che vedo è che si tende quando si fanno queste cose si tende molto all'ottica come dicevi tu da da figli dei fiori esattamente l'opposto bisogna essere dei duri per fare questa roba non da figli di fiori infatti poi perché in tanti falliscono quando provano a fare questa cosa perché pensano sia tutto i fiorellini ciao caro c'è amore c'è qui e c'è lì arrivano lì e poi la vita prende queste persone a schiaffi e non va bene non va bene già sì sì c'era Giorgio Gaber che negli anni 70 aveva scritto diversi pezzi raccontando un po' come andavano le cose nelle comuni perché quel momento c'era le esperienze delle comuni e non andavano quasi mai a finire bene diciamo no ma infatti qui non si tratta né di comuni quello di cui io sto parlando né di comuni né di uscire dal sistema sociale perché non lo puoi fare perché comunque avrai sempre bisogno di alcune cose al momento è uno sgonfiare mettiamolo così è un ridare valore ai paesi e piccoli paesi piccole cittadini nei territori a questo cose che ripeto non sono cosa strata gran parte della popolazione italiana vive ancora così per fortuna dico quindi non stiamo parlando né di utopie né di niente di tutto questo di qualcosa che già esiste che anzi va rafforzato va bisogna puntare a quella parlare a quelle persone è nel limite del possibile perché se uno ovviamente vive in città non è che deve abbandonare tutto ma un riavvicinarsi a quelle realtà quindi cercare di non comprare più cazzate nel senso ma non perché voglio fare il anche in quel caso il figlio di rieducarsi a un'altra a un altro modo di vivere anche al fisico al corpo all'esercizio fisico tutto ciò che riavvicina di nuovo diciamo così alla terra al corpore e così via va bene ecco è un tendere a ecco utilizziamo questo termine un tendere a ognuno con le proprie forze ognuno con le proprie capacità lì allora in quel caso si può fare qualcosa di serio forse ci liberiamo dalla paura se riusciamo a riavvicinarci a questo anche allora se in quel caso immagina se il sistema diciamo ecco sistema americano ad un certo punto dovesse ritirarsi no dall'europa non avverrà domani ovviamente lo sappiamo però sai ad allentare la morsa tu non ti ritrovi semplicemente nel caos perché l'italia è talmente attenzione perché l'italia e l'europa in generale ma l'italia in particolare è talmente assofatta dall'impero americano che basta poco per vedere crisi e lo vediamo in questi in questo periodo in questo periodo quello che sta accadendo le crisi che sono presenti anche economiche sociali in questo momento in italia sono dovute a questo jeff al fatto che gli stati uniti stanno no si stanno concentrando su altri noi dobbiamo essere preparati al peggio saranno costretti a concentrarsi su loro stessi anche fra l'altro perché economicamente si vede che le banche stanno insomma facendo varie azioni perché evidentemente hanno paura di un crollo e quindi noi fino a quando siamo ancora in tempo dobbiamo preparare noi stessi ad un nuovo modo di vivere ecco io questo dico e si può fare si può fare perché già in molti lo fanno lo hanno sempre fatto non hanno mai smesso di farlo d'altra parte Giulietto negli ultimi tempi diceva spesso faceva vari riferimenti al rapporto con la natura e con la vita un po' più naturale e parlava di difendere il territorio anche nel senso mentale e quindi un po' riprendiamo il suo discorso in questo senso esatto si ricordo anch'io quando diceva sempre questo soprattutto negli ultimi anni e quindi bisogna fare quello sicuro e mettersi anche in testa una cosa che adesso può sembrare magari terribile jeff per per molti però capire anche che non sarà per tutti questo perché l'altro errore che facciamo in molti cercare di convincere tutti dobbiamo cambiare tutti non è possibile dobbiamo iniziare a pensare ai nostri cari alle persone che ci sono accanto ai nostri amici alle persone che la pensano come noi e cercare di spingere questo gruppo di persone diciamo così ha questa visione e accettare anche che in molti non si non per essere cinici però tante persone potrebbero non farcela e lo abbiamo visto anche in questi ultimi anni che insomma in tanti stanno avendo difficoltà e bisogna capire anche questo ecco che è importante ma direi che abbiamo fatto una bella discussione oggi che dà spunto anche appunto al prepararsi al domani che è qualcosa a cui è necessario fare sì credo di sì e ricordo di nuovo che è importante soprattutto prepararsi mentalmente a tutto questo per questo io insisto tantissimo tra i vari motivi sulla preparazione stoica all'esistenza perché non è facile vivere secondo natura in armonia con la natura non è rose e fiori è il contrario però se uno riesce a far propria questa visione del mondo allora a quel punto diventa un piacere vivere l'ott'anno mettiamola in questo modo mettiamola in questo modo così diamo un messaggio anche anche insomma positivo perché ci vuole anche il piacere insomma nella vita e quindi ecco il piacere che si prova anche da queste cose grazie Michele grazie per la tua partecipazione di oggi grazie a te Jeff e grazie a voi per averci seguito e continuate a farlo continuate a seguire anche i nostri telegiornali che escono alle 19 tutte le sere intorno alle 19 e le nostre dirette alle 19 e 30 con il nostro direttore dove approfondiamo le notizie e se potete chi può farlo continuate anche a sostenere come state facendo grazie il nostro canale perché siete voi l'unico nostro sostegno grazie e arrivederci a stasera